Buonasera, oggi come vedete sono sulla sedia più comoda, ho avvicinato il microfono, ho cambiato un po' l'impostazione del video perché pensavo di tenerlo un po' più natural, un po' più naturale, senza fare troppo editing, intanto col microfono qua si dovrebbe sentire un pelo meglio, penso. E come vedete ho anche il computer qua, pensavo di non editarlo proprio questo video o comunque fare il minimo e perché? Perché volevo farvi vedere un po' come faccio magari a trovare gli esempi, a imparare come si usa, un certo modo di dire. Oggi stavo pensando come si dice fare l'angolo alle pagine dei libri, avete presente per tenere il segno, no? Quando state leggendo un libro fate l'angolo, almeno io lo faccio, alcuni di voi lo so mi odieranno già perché rovino il libro ma a me non mi interessa, io faccio l'angolo. Come si dice in inglese? Non lo sapevo, sono andato in cerca, quindi volevo farvi vedere un po' cosa viene fuori, dove trovo gli esempi e niente, tutto qua. Allora ho scritto, avevo scritto, cosa avevo scritto all'inizio? Angoli, avevo scritto angoli sulle pagine in inglese e non riuscivo a trovare la cosa giusta, veniva fuori tutt'altro. Poi ho scritto angoli alle pagine di libri in inglese, lo so che non vedete quello che sto facendo, lo so benissimo. Ed è venuto fuori questo, ovviamente il solito context reversal che ve l'ho già consigliato in un video, mi stupisce sempre, trova delle cose pazzesche, ripeto non è perfetto, non è il traduttore perfetto, secondo me il traduttore perfetto su internet non esiste a meno che non stiate cercando una singola parola. Se cercate cose un po' più complesse è molto difficile trovarlo, quello perfetto. Comunque, context reversal, se si sa già un po' la lingua, fa un ottimo lavoro, secondo me. E ho scoperto che fare le orecchie alle pagine del libro si dice Quindi fare le orecchie da cane alla pagina del libro, ok? Come faccio a trovare gli esempi? O li cerco già qua su context reversal, mi dà una decina di frasi di esempi. Quindi per esempio dice Ed è lì che mi sono accorto che mi accorsi che c'erano tre pagine con le orecchie praticamente, no? I dog-eared some pages Quindi ho fatto le orecchie da cane a un po' di pagine Oppure vado indietro, torno su Google e cerco altri siti Per esempio, se non trovo nient'altro dove ero prima, scrivo direttamente to dog-ear Oppure dog-ear A book Ecco, perfetto Mi viene già il primo sito Mi vengono già delle frasi I always leave a dog-ear in my textbooks to indicate an important page when I'm studying Ok, quindi lascio sempre un orecchio alla pagina nei miei libri di testo Per indicare una pagina importante Ho trovato un altro esempio su un sito che si chiama The Free Dictionary E dice I really hate it when people dog-ear their books It ruins the look of the page Quindi odio quando le persone lasciano le pieghe ai libri rovina il look della pagina Come vedete si può usare sia come sostantivo I left a dog-ear in that book Oppure come verbo Quindi in questo caso I really hate it when people dog-ear their books Quindi odio quando le persone fanno la piega al libro Tutto qua Questo è di solito quello che faccio quando trovo una cosa nuova Che non so, vado a vedermi un paio di esempi E poi insomma so usarlo O almeno so capirlo E faccio questa cosa ovviamente anche prima di ogni video Per trovare esempi Per vedere esattamente come si usa in tutti i casi Per non lasciare cose non dette diciamo Quindi questo è quello che faccio Questo video è stato un po' diverso dal solito Probabilmente anche più lungo del solito Fatemi sapere cosa ne pensate È molto più naturale Ci vediamo domani Tutti qui Tutti qui L'all USD Oh Ti Ottieni Esattem Attend Ob La Personal ой Che Se Lo